Il 55esimo trofeo Luigi Fagioli scopre i veli e viaggia veloce con 218 iscritti verso l'accensione dei motori nel weekend del 23 agosto. La Monte Carlo delle Salite pone di nuovo gubbio al centro del motorsport tricolore nonostante l'emergenza covid ed è stata presentata nella sala trecentesca di Palazzo Pretorio. La cronoscallata Umbra ha validità come secondo round del campionato italiano velocità montagna e sabato e domenica i motori torneranno a rombare sul percorso di gara di 4.150 metri da gubbio a Madonna della Cima e vista l'emergenza covid sarà un'edizione giocoforza speciale nel rispetto delle normative sportivo-sanitarie richieste e senza la presenza di pubblico circostanza che ha spinto gli organizzatori a propendere per una diretta video con produzione curata dalla start-up Eugubina Arancia Live mentre in tv la diretta sarà rilanciata in Umbria dalla nostra emittente TRG che la irradierà anche attraverso il sito www.trgmedia.it. Esserci è già un gran risultato per cieche comune che hanno alacremente lavorato per organizzare la gara che vedrà anche l'ordine di partenza di tutti i piloti per la prima volta suddiviso in tre diversi gruppi al fine di non congestionare troppo la zona di arrivo. Siamo ai nostri partenza di questa edizione che tra tutti i problemi tutte problematiche momenti di difficoltà che tutti abbiamo onestamente la macchina organizzativa è riuscita a mettersi in moto e molto efficacemente è riuscita arrivare in questo momento è una cosa importantissima è importantissima perché già da quando abbiamo dovuto prendere la decisione due tre mesi fa era dura era dura e non sapevamo in che modo ci potevamo arrivare ci siamo siamo pronti partiamo naturalmente siamo arrivati a questo punto grazie alla grande collaborazione del comune di Gubbio che ci ha supportato e ci supporta da sempre diciamo oltre naturalmente a quelli che sono gli altri enti cioè la regione provincia la nostra federazione e tutti quanti comunque sia le realtà della città stessa che ci hanno ci stanno sempre vicino naturalmente è un momento difficile però ci siamo partiamo siamo onorati di tutto il riscontro che abbiamo avuto perché comunque sia cominciavamo arrivati in questo momento e avere notevoli presenze da parte del dei piloti un riscontro che siamo al top del campionato italiano comunque sia abbiamo i migliori piloti della salita quindi per noi tutto questo ci rende sempre più onore purtroppo non avremo la presenza del pubblico lunghi tornanti del bottacione però per ovviare a questo perché comunque sia il pubblico gli appassionati devono essere sempre presenti abbiamo predisposto una diretta televisiva che andrà in streaming e andrà in onda anche su TRG in chiaro la domenica naturalmente perché il sabato faremo delle prove e quindi niente mi raccomando l'autoresponsabilità da parte di tutti perché la gara riesca nel modo migliore perché noi tutti vogliamo bene a questa manifestazione quindi speriamo di portarla a buon fine. In questo periodo in cui molte delle iniziative sportive sono saltate a causa ovviamente delle restrizioni e delle norme che siamo costretti a rispettare per l'emergenza del covid siamo comunque riusciti ad organizzare in maniera molto positiva questa 55esima edizione. Per noi è ovviamente un onore ospitarla, è una manifestazione assolutamente importante e è diventato poi un vero e proprio appuntamento fisso per la stagione eugubina dal punto di vista sportivo in particolare. Vogliamo ovviamente ricordare che tutto ciò non è casuale cioè il rapporto estremamente positivo di collaborazione e il legame molto stretto che c'è anche col comitato organizzatore ha permesso di nuovo di poter portare a Gubbio una manifestazione così importante e chiaramente di creare un movimento intorno ad essa che per la città è assolutamente positivo sia d'immagine che poi anche di ritorno in termini di presenze e turistico. Mettere in piedi un protocollo dettato dalla federazione del CONI sicuramente non è stato facile. Questo ha scoraggiato molto anche gli organizzatori che hanno preferito non organizzare la gara in questi in questi momenti particolari. La nostra organizzazione che si sta distinguendo ormai da tanto tempo a livello nazionale internazionale è stata capace di dare una risposta insieme e grazie al supporto dell'amministrazione comunale che è stato determinante in alcuni momenti. Siamo orgogliosi di aver comunque sia preannunciato la nostra partecipazione al campionato italiano. Siamo orgogliosi dei 218 partecipanti che ad oggi ci assicurano lo spettacolo per tutti i nostri appassionati da casa e i nostri gubini e soprattutto è stato difficile mettere in piedi tutto quello e far rispettare sicuramente tutto quello che dovranno rispettare i piloti per far sì che tutto funzioni al meglio. Mi dispiace per il pubblico, anche questo sarà un problema nostro sorvegliare il percorso, oltre a sorvegliare la parte sportiva c'è anche la parte diciamo di avventori che lungo il tracciato sicuramente saranno presenti. Però questo potranno loro tranquillamente essere lì, messi in parte, evitare contatti, evitare gruppi di persone che stiano vicini e sicuramente potranno godersi rispettare. Sicuramente l'applicazione del protocollo Covid ci ha destabilizzato un po' per quanto riguarda l'organizzazione. Abbiamo dovuto creare delle zone sicure, quindi creando tre triage in due paddock, una nella zona dell'antistante lo stadio e un'altra nella zona dell'istituto commerciale. Abbiamo creato questi tre gruppi per far sì che tutti i 218 piloti non restano tutti insieme nella parte alta del percorso. Quindi saranno tre gruppi che si muovono in maniera omogenea, quindi alla maniera del master che è stato un vanto anche questo per l'organizzazione, che saliranno le auto storiche come solito di seguito fino ad arrivare ai big che saranno gli ultimi del terzo gruppo e in maniera simultanea come un orologio. Basta un ingranaggio dell'orologio che non gira, poi ci si inceppera tutto. Ma abbiamo chiamato delle persone anche che arrivano da tutta Italia a darci una mano e abbiamo scelto propri gruppi più importanti per far sì che questa macchina, questo orologio funzioni al meglio. Dopo le verifiche tecnico-sportive nel paddock allestito presso lo stadio Pietro Barbetti e considerato area protetta nonché evitata al pubblico, sabato dalle 9.30 via alle prove ufficiali, mentre domenica si parte alle 9 con le due salite di gara, seguendo un tragitto delimitato e presidiato da commissari di percorso fino al raggiungimento della linea di partenza per poi lanciarsi lungo il tracciate gubino chiuso al pubblico. Sabato e domenica la strada interessata sarà chiusa con decreto prefettizio dalle ore 6 fino al termine delle competizioni. a sfidarsi per la conquista dei punti tricolori del CIVM sono iscritte 188 automoderne, mentre le storiche sono 30. Tutti gli appassionati attendono però la sfida tra i campioni europei Simone Fagioli per ben 11 volte sul gradino più alto del podio gubino e Cristian Merli vincitore dell'ultima edizione del trofeo. Questa è una gara incredibile, una gara che si svolge alla fine in un minuto e 32 il record è qualche piccolo di decimi, quindi in queste minuto e 30 è un giro di pista della Formula 1, in un giro di pista non puoi sbagliare niente, devi fare tutto perfetto, devi curare tutto al massimo. Io ho provato a fare delle prove sulla macchina per riuscire a trovare qualcosa di nuovo qui il sabato, spero di azzeccare perché già se si parti male in prova diventa ancora più difficile di operare in gara, però bisogna rischiare. Lo scorso anno è filato tutto alla perfezione e con Simone Fagioli è veramente difficile riuscire a vincere, quindi non devi sbagliare niente, in una gara così corta, così selettiva, così veloce, il minimo errore ti fa arrivare dietro, quindi speriamo, deve filare tutto liscio, ci proviamo, sarà una bella sfida e poi che vinca il migliore. E la presentazione del trofeo Fagioli è stata anche l'occasione per consegnare il Memorial dedicato ad Angelo e Pietro Barbetti, solitamente assegnato a campioni o personalità di spicco dell'automobilismo o che tanto hanno rappresentato per il mondo sportivo e gubino. Quest'anno però Ceca e famiglia Barbetti hanno ritenuto ideale e opportuno valicare i confini sportivi perché se è vero che lo sport è ripartito non bisogna mai dimenticare ciò che si è vissuto in primavera e che tuttora si vive in Italia e nel mondo a causa del Covid. E così, a ritirare il Memorial, è stato il dottor Marco Caporali, consigliere dell'Ordine dei Medici di Perugia del presidente Gazziano Conti, ispettore internazionale antidoping, nonché allenatore di pallacanestro ed ex coach del basket gubbio. Caporali ha ricevuto una suggestiva targa realizzata dall'artista gubbino Leonardo Fumanti delle ceramiche CAF che ritrae proprio il grande e indimenticato Luigi Fagioli nel corso di una gara consegnata dal presidente Ceca, Luca Uccellani, e da Giovanni Barbetti, figlio di Angelo e nipote di Pietro. Un momento teso a rappresentare un riconoscimento per tutti gli operatori della sanità italiani impegnata contro il virus, con un pensiero particolare ai medici e infermieri che hanno dato la vita per il loro lavoro. Rappresenta veramente un onore alla nostra categoria. Finalmente qualcuno si è ricordato di noi, perché molte altre figure non si sono ricordate, specialmente quelli istituzionali, si sono ricordati la famiglia Barbetti e gli organizzatori del trofeo Fagioli, quindi questo ci rende orgogliosi e siamo molto grati. Siamo rimasti molto contenti di aver avuto questo pensiero da parte della famiglia Barbetti e di tutta l'organizzazione del trofeo, perché vuol dire che la gente ha capito il messaggio, lo sforzo che è stato fatto dai medici di famiglia, io faccio parte anche dei medici di famiglia, che è stato uno sforzo massivo, perché non avevamo protezioni, non avevamo niente, ci siamo trovati di fronte al mostro quasi nudi e quindi diciamo che è stato un impegno molto forte. Molti di noi sono rimasti sul campo, purtroppo non in umbra, fortunatamente c'è stato solo qualche caso di malattia, mi ha risolto bene, però dobbiamo tenere sempre la guardia a bollene alta, perché come avete visto il Covid non è finito e quindi qualsiasi atteggiamento sbagliato porta al rischio di accensione del quadro. Grazie a tutti!